buongiorno amori amori faccio vinta mi sto svegliendo ora invece no mentre l'ora adoro da lui sorridi ciao amici diventato bravissimo comunque mentre loro si vestono io sto vedendo tutte le cose che ho preso da oceans ragazze oceans a parte ammesso dei completi e delle tute troppo belle ormai non solo per la palestra ma proprio anche per uscire per stare in giro sono bellissima date questo qua questo penso stavo scendo cosa mettermi lo penso lo metto oggi il completo con questa maglia sopra e quindi è comodissimo perché vi trovate già vestite insomma anche se vi dovete allenare ho preso un sacco di felpe guardate che belle c'è questo colore mi fa impazzire lilla guardate questo qua questo anche troppo bello rosa tipo corallo quel nero intramontabile e poi questa nude sono modelli diversi dopo magari me li provo così ve le faccio vedere ma sono di super qualità considerate ragazzi che io da anni che uso oceans a parte a mente veramente la qualità e top e top e o completi che ho tipo da tre anni sono perfetti anche avendoli lavati mille volte e muovendo fatto queste tute hanno preso 10 punti secondo me perché vestono tutte pensate che io alcune cose le do anche a mamma questa poi è felpata perché sono comode sono belle adoro comunque dopo ve li faccio vedere indossati ciao ragazzi comunque per vedere chi è venuto a casa adesso vi faccio vedere loro sono andati via ma mi sono messo questo completo che cioè lo amo cioè vi prego ditemi cosa non è questo completo cioè bellissimo tra l'altro vi devo dire che modella un sacco cioè lo sapete che io comunque dopo il parto mi è rimasta un po di pancetta ma vi assicuro che cioè questo completo poi dopo ve li scrivo tutti in box informazioni e nomi è il mio preferito ora in poor position perché troppo bello c'ha questa fascia che però è a costine quindi non dà fastidio che modella tutta la pancia guardate che bell'effetto che fa è effetto push up del gluteo stupendo e poi sopra c'è sta felpetta che si può stringere no ma è troppo bello veramente è un top raga che fa un seno imbottito pure ma raga è bellissimo veramente me lo prenderò anche in altri colori perché è stupendo lo amo adoro e poi così magari potete anche uscirci cioè è bellissimo anche da uscire non solo per allenarvi adoro lo amo comunque dopo vi do un super codice sconto di ocienza a parte che dovete fare scorta perché spalmiate un botto ora vi faccio vedere anche così il tessuto vedete come c'è qua è tipo una costina però comunque contiene ma non dà fastidio vedete questo tessuto tutto traspirante però push up ed è veramente bellissimo adoro c'è anche i pupi saluta ciao raga eccomi buongiorno e benvenuto in questo nuovo vlog ho appena staccato una diretta che ho fatto su instagram ieri l'ho fatta su tiktok fate seguitemi anche su tiktok e oggi l'ho fatta su instagram mi sta piacendo un sacco tipo dopo pranzo metto mentre mi trucco faccio state dirette così giusto per fare qualcosa di diverso comunque raga adesso mi vado ad allenare vi faccio vedere gli esercizi che faccio mi sono messa questo completo bellissimo di oceans ho una promo grandissima che anche io vi giuro utilizzerò questo codice perché veramente sono bellissime le cose di oceans e questa promo è grandissima tutto scontato senza minimo di spesa al 40% quindi praticamente pagate tutto quasi a metà prezzo ed è veramente una bellissima promo il codice è carlita dolce 40 quindi praticamente voi potete prendere anche solo un set solo una felpa quello che volete ovviamente vi consiglio di fare scorta perché comunque pagate quasi tutto a metà prezzo quindi conviene approfittare poi queste cose sono di super qualità considerate che io ce l'ho da anni veramente ho l'armadio pieto dopo vi faccio vedere c'ho proprio un armadio solo per le cose di oceans e non si sono mai salabrate ma i monse sono ottime e hanno migliorato ancora di più la qualità io che compro dall'inizio e che veramente collaboro con loro dall'inizio perché ci collaboro ma compro anche spesso con i miei codici ci compro e veramente raga le cose sono sempre state di qualità ma adesso sono migliorate ancora di più vi ho notato veramente negli anni una qualità sempre maggiore infatti pensate veramente le felpe le mani tessuti sono di qualità veramente le parti elastiche restano elastiche non si stalabbrano poi tutti questi tessuti super contenitivi che veramente tengono la pancia sono bellissimi tutti questi top che fanno un effetto bellissimo sul seno super push up con le coppe che poi le puoi togliere le puoi mettere comunque vedete tutti i laccettini le puoi stringere comunque i completi sono veramente bellissimi non solo per allenarvi ma anche per uscirci soprattutto d'inverno tipo devi stare in casa esce a fare shopping o esci magari vai al lavoro vai a scuola vai in palestra comunque vuoi stare comoda questi sono l'ideale trovate anche tantissime tute non solo leggings ma anche proprio tute bellissime comunque nel corso del video vi metto tutte le cose e vi metto tutti i nomi scritte delle cose e vi lascio il link nel box informazione comunque il codice è carlita dolce 40 approfittate perché non ci sarà mai più uno sconto così grande e io dopo appena stacco il video mi vado pure a fare un rifornimento anche mi sono presa già tantissime cose però tipo questo qua ve lo voglio prendere anche in altri colori perché è bellissimo con la maglia il top e le leggings e anche le tute perché uso tantissimo le tute comunque ora mi vado a allenare fatemi sapere se vi è piaciuta sta cosa che vi ho fatto questo video anche sull'allenamento che adesso vi faccio vedere scrivetemelo nei commenti cosa vorreste vedere perché comunque sto cercando di fare sempre almeno un video a settimana nel prossimo video così ve lo faccio scrivetemelo nei commenti lasciate sempre un like al video comunque il video non è finito perché adesso vado ad allenare però mi raccomando quando finite di vedere il video approfittate della promo di Oceans perché non so quanto dura ma sicuramente pochissimo e dopo non avrò uno sconto così grande perché il 40% è veramente conveniente quindi raga io mi vado ad allenare vi mando un bacio vorrei parlare sempre con voi perché adoro parlare con voi comunque ho capelli sporchi mi devo lavare anche i capelli oggi però non so se voi fate come me ma io aspetto sempre che mi alleno e me li lavo sempre dopo che mi sono allenata perché comunque quando mi alleno un po' si sporcano anche se comunque legandoli se voi li legate si sporcano sicuramente di meno comunque vado raga vi porto con me riscaldiamoci prima di riscaldamento ragazzi prima faccio qualche minuto per riscaldamento e poi si va a mangiare ragazzi sarà un argomento molto divertente con Dato però cercate di prenderlo sul serio si ragazzi vado a fare dei micro stagli per alzare i gruderi di sacco ok 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 Il nostro sito di QTSS è un sito di QTSS Grazie a tutti 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 molto, ci abbracciano una fascia molto ampia, quindi state tranquille che comunque vi vanno bene poi sul sito c'è anche la guida alle tagliano comunque vabbè, adoro adoro, comunque vi metto nel box informazione il link e il codice sconto che è veramente altissimo, quindi fate scorta e ditelo anche alle vostre amiche perché sono veramente wow alla fine per rendere il look un po' più fashion ho indossato la mia Gucci rossa che praticamente questa all'inizio ho indossato adesso adesso la smetto di indossare dopo Natale, l'amo e impreziosisce il look, guardate che fashion, anche con un cappotto una bella borsa sedute sono fantastiche anche per andare in giro, ciao sono nella mia cabina armadio perché oggi stiamo sistemando tutto all'armadio ed è venuta da me una closet organizer che è Caterina, che tra l'altro è la mia follower da tantissimi anni e lei è bravissima praticamente viene a casa vi sistema la cabina armadio l'armadio e poi nel suo profilo Instagram dà anche un sacco di consigli la sua pagina si chiama al passo con lo stile ed è... io la seguo perché dà un sacco di consigli su Instagram quindi seguitela e se vi serve una persona che viene a casa contattatela perché è veramente brava già sta qua da penso un paio d'ore e sta facendo veramente sta rivoluzionando la mia cabina armadio adesso ve la presento eccola qui eccola ma poi è una ragazza così umile brava veramente una lavoratrice e poi raga sta sistemando le cose cioè vi faccio vedere un pochino le cose che sta sistemando raga io non avete idea qua no vabbè magnifico cosa avevo? avevo tutti i calzini messi a palle tipo così buttati uno di qua uno di là lei li ha sistemati tutti no vabbè ma cioè queste persone sono sante vabbè sta finendo di sistemare ovviamente stiamo facendo anche un po' di decluttering toglierò tante cose da mezzo e ti stai divertendo? moltissimo no ma lei è brava perché a lei piace quando una persona fa le cose con passione si vede perché il lavoro viene fatto bene mi dà soddisfazione poi il risultato vedi? ecco brava e poi lei è anche una stylist quindi ha anche vi dà anche dei consigli per esempio mi ha detto questo lo vuoi tenere non lo vuoi tenere quindi vi aiuta anche a fare spazio e a organizzare tipo mi ha detto che devo prendere degli organizer delle cose vero? lei è anche un po' timida vai dici qualcosa però è tanto carina è brava vi aiuto a riorganizzare al meglio gli spazi che avete per utilizzare tutto perché a volte tante cose non le mettiamo esatto veramente a fare a fare dell'armadio una parte bella insomma esatto comunque vi faremo vedere dopo il seguito e poi venite anche su Instagram che troverete anche delle foto nel suo profilo vai Caterina io faccio il tifo per te perché io a me viene l'ansia cioè solo a guardare queste cose a me viene l'ansia e invece lei si è messa carina carina brava brava è proprio una professionista ragazzi veramente cioè secondo me sono quelle persone che ti salvano la vita dopo vi faremo vedere la meraviglia di questa cabina armadio poi c'ho anche l'armadio qua fuori però lei veramente brava 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 benerisce Samy Shanna benerisce le persone come lei che veramente ti ti cioè non lo so ti salvano la vita pausa pochè guardate quanto è bella questa pochè raga io sono dipendente dalla pochè troppo buona salmone gambe anche a Caterina cosa bella anche a Caterina piace la pochè quindi sono felicissime oggi di mangiare pochè sotto c'è il riso amore buon appetito buon appetito piccola pausa e poi ricominciamo buonissima veramente buona vero ci voleva sono le zucchine è fredda guardate qua cioè solo per youtube questo è su instagram non l'abbiamo mostrato questo è tutto decluttering e qua c'è la mia maga dov'è eccola qua Caterina ragazzi no ma dovete vedere c'è la meraviglia io apro la mia cabina armadio dopo un giorno che lei è stata qua dentro mi ha fatto trovare questa meraviglia tutto in ordine guardate perfettamente in ordine tutto sistemato là ha fatto tutto lei nelle scatole e poi abbiamo tolto un sacco di cose che non mi mettevo abbiamo sistemato tutte le borse la mia chanel tutte le mie bellissime borse che non sapevo neanche di avere più cioè bellissimo scopri cose che non sapevi di avere guardate le mie borse che belle adoro qua mi ha sistemato tutti i vestiti qua questa era piena di roba l'abbiamo svuotata qua abbiamo sistemato tutto guardate qua cioè voi dovete vedere quanto è bello questo cassetto cioè bellissimo ma non sapevo di avere tutte queste cose belle mi ha sistemato tutto io sono innamorata calzini cioè bellissimo fine pigiami tutti in ordine cioè le scarpe tutto sistemato e mi ha messo tutto là dentro comunque vi metto il suo contatto nel box informazione veramente eccezionale grazie Caterina al passo con lo stile seguitela su Instagram grazie mille ehi vai vieni 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 bambini Daniel oh bravo Daniel vai Daniel vai oh com'è bravo Daniel ciao 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 Daniel ciao ciao vieni 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 Guardate che bello il tramonto da casa mia Così lo devo far vedere Non rende, così si toglie Non è bellissimo Guardate che bello L'unica cosa che mi mancherà di questa casa Ragazzi guardate anche questo completo Quanto è bello Sempre di Oceans La cosa bella di questo è che c'è sia il leggings Sia il pantalone Infatti ho preso sia il leggings Tutto bello sempre super fasciante in vita Ma anche il pantalone proprio tipo di tuta Quindi praticamente non lo posso mettere questa felpa In entrambi i modi Poi è un colore bellissimo Cioè io amo Bellissimo Ha questa anche sopra i jeans Adoro Vi lascio scritto il nome E vi lascio il link nel box informazione Anche questa c'è di diversi colori Bellissimo Adoro Che bello Questo colore secondo me valorizza un sacco la pelle È bellissimo Raga guardate che ho fatto Che me lo chiedete sempre su tiktok Ho fatto i noodles Mi piace dire anche un piccolo muc Beh Io praticamente metto Mi ho messo macinato Pollo e verdure Paprica Comunque se volete saperlo Scrivetemelo nei commenti Ve lo scrivo Sono buonissimi i noodles Io li amo Mocele Appiamo Raga comunque Quei nostri noodles Ho fatto un po' brodosi Buonissimi C'è anche il mio amore Che sta mettendo il parmigiano Amore ma Non si mette il parmigiano 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 Comunque buon appetito Raga I nipotini pure Stanno tutti influenzati Prudani Raga Sono troppo buoni Faccio anche un po' di muc Perché mi chiedete sempre Di fare i muc Però In realtà ne faccio tantissimi Su tiktok Raga Perché l'è molto più rapido Quindi Proprio Quasi ogni giorno Faccio due o tre Muc Su tiktok Quindi seguitemi anche lì Poi su instagram Tutte le mie ricette Lo dobbiamo fare Amore qua Su youtube Cosa? Muc Banda lo vogliono vedere Dove rispondiamo Facciamo A Natale Buono Comunque raga Mettete like al video Commentate E andate su Occianza a parte A fare shopping Col codice Perché 40% Non si ha mai Guardate L'increbox info Ma il mio bacio grande Pronto Mi siamo al buio Io mi sto La lampa Nel cellulare Perché Daniel sta dormendo Amore Saluta Ciao Ciao Ciao